Sindaco, quello di quest'anno è un conclave particolare? Ma è un conclave come tutti quelli degli altri anni, è il primo conclave della giunta del Brucchi 2 e quindi con tutta una serie di problematiche e situazioni che sono sicuramente diverse da quelle della prima legislatura ma non c'è dubbio, ma ci sono temi da affrontare perché poi di questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare della sostanza, non dobbiamo parlare della forma. Bisognerà parlare del futuro della TEAM, bisognerà parlare del piano traffico, bisognerà parlare del nuovo bilancio che ci proviamo ad affrontare, che ci troveremo ad affrontare. Quindi parliamo dei temi. Di un eventuale rimpasto? No, non è all'ordine del giorno come ho già detto. Noi abbiamo detto e questo faremo che nella primavera prossima ci sarà una verifica dell'attività della giunta perché è giusto che passi almeno un anno anche per chi si è trovato ad affrontare questa avventura per la prima volta e poi faremo una verifica come diciamo previsto e lì, se ci sarà necessità, si parlerà anche di rimpasto. Come mai andate a Gualdotadino così lontano? Non è facile trovare un albergo che abbia una disponibilità per 30 persone perché poi di questo si tratta perché qualcuno porterà anche la famiglia, quindi voglio dire c'è anche un discorso come dire allargato e quindi è stato uno degli albergo, l'agenzia ci ha proposto questa soluzione, ci è sembrata una soluzione buona in un bel posto, quindi insomma andiamo a Gualdotadino ma saremmo potuti andare in qualsiasi altro posto. Lei ha detto qualcuno verrà, qualcuno non verrà, chi è che non verrà sicuramente? No, ma per esempio c'è il consigliere Micheli che insieme al consigliere Grande vengono la domenica mattina perché sabato hanno un impegno, c'è invece chi viene il sabato e poi la sabato sera dopo cena riparte, cioè nel senso che ma questo è sempre stato così, diciamo che la presenza l'hanno garantita tutta. A chi dice che è troppo caro? Da quando noi abbiamo istituito il conclave ogni consigliere, ogni assessore lo ha pagato di tasca sua ma questo mi sembra scontato, ma guarda io credo che 100 euro tanto costa, la cena del sabato, il pernottamento, la prima colazione, il pranzo di domenica, mi sembra che sia davvero un prezzo giusto, ripeto, poi in una bella struttura e quindi insomma non mi sembra assolutamente caro.